Ci siamo ragazzi, siamo in diretta. Questa è la diretta di martedì 10 marzo 2020 e sono le 20 come sempre quando facciamo la diretta. Se vedete la schermata stiamo per iniziare e se sentite bene le mie parole mandatemi cortesemente un ok in chat così partiamo con la diretta. Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina ad una delle dirette del martedì sera canale YouTube che fa corsi di informatica ma del resto già lo sapete tutti martedì sera in diretta tutti giovedì pomeriggio in diretta alle 16 e ogni giorno sul nostro canale c'è un evento video quindi un video registrato o una diretta dal lunedì al venerdì. Bene ragazzi, allora siamo pronti ad iniziare l'argomento di questa sera. Fatemi tornare a vedere la chat eccomi così posso vedere la vostra chat e questa sera voglio mostrarvi come registrare un video tutorial. So che probabilmente non siete tutti lì che volete registrare un tutorial ma in questo periodo che stiamo passando c'è necessità per molte persone di dover registrare dei video per comunicare con i propri allievi e quindi vediamo anche noi come fare a me capita di farlo da un po' vediamo di dare qualche suggerimento e magari togliamoci la curiosità di vedere come viene fatto tutto questo lavoro dietro le quinte diciamo. Ne abbiamo già parlato un po' in un video degli abbonati eccolo qua, video degli abbonati vi ricordo che sul canale Amici di Maggiolina www.associazionemaggiolina.it slash amici si entra in questo che è il nostro sito dove raccogliamo tutti i nostri video qui in ordine alfabetico separati per argomento eccetera eccetera in più ci sono i video per gli abbonati per accedere e guardare la serie speciale di video dedicati agli abbonati sul canale YouTube c'è il pulsante abbonati in questo caso è YouTube che gestisce l'accesso a questi video una volta che si è abbonati si può vedere questi video ed è una serie speciale escono almeno due video alla settimana stiamo facendo uscire due video alla settimana dedicati a vari argomenti proprio agli abbonati ringrazio Enzo grazie infinite Enzo per l'uso del super sticker del sostegno che mai come in questo periodo è particolarmente importante grazie, grazie infinite quindi vediamo come registrare un tutorial come faccio io ci sono infiniti modi per fare questa cosa vediamo come farlo magari in maniera semplice anche se si vorrebbe sempre che fosse facilissimo ma le cose facilissime non ci sono si tratta di attrezzarsi un attimo e di muoversi un attimo allora, quali passaggi dobbiamo fare? torno sul desktop del mio computer e vado a accendermi la mia lavagna diciamo elettronica da computer eccola qua beh, tengo fuori anche questo strumento così lo potete vedere di questo parleremo in seguito allora, uno strumento di cui hanno bisogno le persone che devono insegnare qualcosa e che quindi hanno bisogno di una lavagna di qualcosa è quella che di solito nelle scuole viene chiamata LIM ovvero un software e degli strumenti per proiettare quello che si vuole mostrare al pubblico, agli propri allievi dato che siamo a computer questo software ce l'ho già dentro il computer quindi io ho questa che è la mia LIM poi vedremo come metterla decido di avere un foglio bianco beh, facciamo un foglio a quadretti che mi piace di più eccolo qua e adesso proviamo a scriverci qualcosa in questo momento risulto sospeso non mi piace quindi mi appoggio sotto eccomi qua non avevo pensato a questa cosa e ora ci siamo perfetto allora aspettate che devo vedere la chat in modo che io possa rispondere alle vostre eventuali domande dunque, devo andare qui io ho due schermi sto lavorando sul secondo schermo intanto ringrazio allora Inzo abbiamo già ringraziato ringrazio Augusto Cinzia e Giuseppe per i super sticker per le super chat e mi avete sentito dire mai come in questo periodo sono particolarmente gradite necessarie grazie infinite ragazzi allora voglio riepilogare un attimo qui quelli che sono i passaggi che dobbiamo fare per registrare un qualcosa potremo tutti possiamo registrarlo quindi dato che è tutto software gratuito potete anche provare a cimentarvi e fare qualcosa di questo genere tanto per toglierci per togliervi la curiosità di vedere come si fa e cosa vuol dire farlo allora desidero scrivere quello che serve allora i passaggi per fare un tutorial sono sostanzialmente tre uno registrarlo quindi registrare registrare il video il video il tutorial quello che è vediamo cosa dice la chat intanto video a parte ok vabbè quelli sono altri discorsi restiamo concentrati su quello che ci stiamo dicendo allora Oscar il programma che stai usando in lavagna elettronica è già in Windows se hai un punto di domanda no Oscar io perlomeno non conosco un programma di questo genere di Windows e se c'è non lo so ma ne ho preso un altro che poi mostrerò intanto saluto Aldo ciao già Aldo ben arrivato come si chiama il software tra poco lo diciamo Giovanna allora uno registro il video due una volta che ho registrato il video potrei volerlo editare editare il video cioè togliere quelle parti dove mi sono sbagliato dove mi sono grattato il naso dove ho detto una cosa che poi era sbagliata e quindi lo devo rifare ok e questa parte non è necessaria al 100% sempre ad esempio per le dirette vedete che la diretta va così e via però capita che se tu fai un video e poi te lo riguardi ah caspita dopo che lo riguardi dici caspita lì ho detto quella parola lì non è proprio italiano lì ho detto così invece dovevo dire il contrario quindi capita di dover aggiustare delle cose per cui se registrate un video e riuscite a farlo così a presa diretta tanto meglio poi non guardatele neanche perché altrimenti poi già vi rivedete vedete dove avete sbagliato diventa difficile da accettare e quindi va editato per fare una cosa decente ma è anche bello un video in presa diretta dove uno è naturale quando parliamo normalmente anche a un corso che può capitare di sbagliare una parola si ripete e si va avanti ringrazio Roberto grazie infinite Roberto per l'uso della super chat grazie mille terza fase caricare il video il video sulla piattaforma sulla piattaforma che deve che deve ospitarlo nel mio caso caricare il video su youtube e questa cosa è piuttosto semplice l'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci per caricare il video sulla piattaforma è di registrare quindi nella parte 1 registrare il video nel formato cioè in maniera tale che sia accettato dalla piattaforma perché altrimenti risulta risulta difficile cioè faccio un video in una maniera poi youtube non lo vuole e non va più bene quindi se voglio saltare l'editing se voglio saltare la seconda parte che richiede molto tempo quella di aggiustare tutto quindi cerco di registrare tutto in primo passaggio faccio anche in modo di registrarlo in un formato in un'estensione diciamo poi vedremo meglio che sia compatibile grazie infinite Roberto abbiamo un altro Roberto grazie mille per l'uso della super chat e volendo dire un formato che può essere un po' un po' buono per tutti per tutti i posti per tutte le piattaforme mp4 di solito io ho visto che va bene ad esempio per facebook per youtube va bene se non va proprio bene bene ci impiega un po' a caricarsi quindi il formato magari mp4 è un po' più lungo a caricare sulla piattaforma ma alla fine va bene in ogni caso quando fate tutto questo lavoro per caricarlo provate prima con una cosa corta perché il brutto dei video è che ci vuole un sacco di tempo a registrarli a editarli e a caricarli se il video è corto impiego poco a registrarli impiego poco a editarli impiego poco a caricarli sulla piattaforma se qualcosa non va bene posso sempre rifare fin tanto che non sono pratico ok quindi scriviamo due cose allora per caricare il video sulla piattaforma mettiamo mp4 come genere ho anche sbagliato a scriverlo allora così approfittiamo della gomma eccolo qua prendiamo il nostro testo scusami di cosa state parlando ok Andrea dopo capirai stiamo parlando di come fare un video allora un po' più grande perché era troppo piccolo allora io metto mp4 mp4 ma verificate prima qual è il formato accettato dalla vostra piattaforma per editare il video ci sono un'infinità di programmi molti utilizzano programmi a pagamento che sono molto validi io preferisco usarne uno gratis che si chiama Kedenlive ok che è professionale ma gratuito e tutte queste cose possono essere semplicissime perché o il programma fa poco e niente oppure è professionale e quindi programma che fa poco e niente però è facile o è professionale e quindi ha un sacco di comandi e può essere difficile da usare ma in realtà anche un programma professionale può essere usato in maniera elementare e non riesco a fargli fare tutto quello che può fare ma se non lo so non mi interessa neanche grazie Aldo grazie infinite Aldo per l'uso del super sticker grazie mille ok ecco intanto vedo che qualcuno Oscar suggerisce anche altri altri particolari allora per la cosa che mi avete chiesto sto facendo questo video un po' anche perché me l'avete chiesto un po' perché ho visto i video che i ragazzi cominciano a dover guardare in questo periodo di non scuola diciamo e quindi che cosa ci serve per registrare il nostro video vabbè ci serve il computer ovviamente anche se potrebbe essere anche un telefonino faccio il video col telefonino ok ma noi facciamo finta di avere una situazione simile a questa dove spiego qualcosa e mostro le cose su una lavagna come stiamo facendo adesso quindi mi serve il computer mi serve una webcam se desidero farmi vedere quindi allora webcam se desidero farmi vedere e non è detto che io desideri farmi vedere però farmi vedere mantiene un contatto molto più forte con gli allievi gli allievi ti vedono sanno che sei te insomma è diverso io vedo adesso che voi siete abituati a vedermi quando esce un video dove non ci sono e mi dite subito però ci manchi non ti vediamo ok e quindi è una buona idea farsi vedere secondo me è molto più difficile fare un video dove ti fai vedere perché quando sbagli quando lo tagli perché quando parli devi un attimino tenere conto che ci sono delle persone quindi non devi parlare mentre sei tutto così e fai le cose cioè è più difficile però il risultato è migliore vediamo cosa dice la chat perché non OBS non è per l'editing no OBS in questo caso dice Serena Sere è il programma che serve per registrarlo una volta registrato devo passare nel programma che fa l'editing perché OBS fa già tantissime cose ma lo registra e basta se vogliamo poi va trattato con un programma di video editing generalmente questo è il passaggio vediamo cosa dice Orazia purtroppo devo abbandonare ci vediamo in un altro momento Orazia allora e fin qua ci siamo quindi computer webcam quale webcam devo utilizzare se il computer non è vecchissimo tranquillamente quella del tuo computer l'ideale è una webcam HD in modo che abbia una buona qualità perché fare video che poi verranno guardati dai ragazzi devono essere di una discreta qualità perché i ragazzi sono abituati anche i ragazzi più piccoli a vedere video di alta qualità tutto il giorno quindi gli youtuber quelli che vediamo solitamente che intrattengono i ragazzi con i loro canali sono dei super professionisti sia a livello tecnico che poi per quello che dicono per cui i ragazzi sono abituati molto bene con i video che guardano quindi dobbiamo cercare di adeguarci poi cosa volevo dire microfono il microfono deve essere valido microfono microfono vediamo se ho scritto bene microfono mi pare di sì ok il microfono deve essere valido e lo dico io perché l'hanno sempre detto tutti e dove e lo dico io che quando guardo i miei video passati faccio fatica a vederli perché mi dico caspita che qualità scarsa di audio che qualità scarsa di video eccetera però è così il microfono è la cosa che serve di più perché ti devono sentire bene ti devono sentire con una voce alta ti devono sentire con una voce chiara eccetera per cui un buon microfono ci sono anche webcam che hanno dentro un microfono difficilmente è così buono ma si può si può fare se volete spendere poco e non vi fate vedere o se vi fate vedere ma volete spendere poco cuffiette con microfono qui così almeno ce l'abbiamo davanti la bocca e si sente bene l'audio è abbastanza forte però non è il massimo però è molto economico non è il massimo farsi vedere con le cuffie mi hanno detto in passato quando appunto io usavo questo questo sistema altri microfoni si possono acquistare posso dire la mia esperienza quello che uso io è un Samson Meteor Mic se non mi sbaglio abbastanza economico ma molto valido devo dire che mi sta durando anni quindi l'acquisto ne è valsa la pena perché mentre buttavo via continuamente cuffiette perché si rompevano questo sta andando bene Meteor qui l'ho scritto male allora cancelliamo e facciamolo bene perché vorrei che sia scritto bene allora cambiamo colore blu microfono allora Samson Meteor Meteor Mic oppure quello considerato il microfono per eccellenza da quello che ne so io è il blu Yeti penso che si scriva così e spero che si scriva così non me ne vogliano eventualmente se ho sbagliato a scriverlo è un po' più costoso ma chi ce l'ha è contentissimo ed è il microfono di riferimento per fare questo lavoro per poter parlare ecco con questi due io posso avere il microfono nella stanza fare in modo che non si sentano i rumori attorno ventole e quant'altro e soprattutto avere una voce decente e quindi un buon microfono anche se sono se sono a distanza bene e fin qua fin qua ci siamo oltre al microfono bisogna avere anche un programma per audio tipo Audacity un programma di modifica audio devo dire che sì però quello è in fase di editing cioè successivamente se hai un buon microfono comunque l'audio viene bene senza dover stare a fare tanti tanti lavori successivi cerchiamo sempre di fare meno lavori però non lo so cosa facciano gli youtuber super professionali perché semplicemente non lo so io quella voce che sentite adesso la sentite in diretta e quella viene così dal microfono il silenzio c'è diciamo che devi metterti in una stanza dove non ci sia l'eco in molte situazioni c'è ci sono i pannelli per frangere le onde sonore perché non ci sia il ritorno cioè c'è tutto un lavoro però non esageriamo in questo momento vogliamo fare un video ok non mettiamoci in un salone dove c'è un sacco di eco e moniamoci di un buon microfono dopodiché un'altra cosa che ci serve è il software di registrazione e quindi adesso mi sono occupato lo spazio lo scrivo un po' più indietro software di registrazione io uso OBS e lo scrivo qua ormai ho fatto un po' di pasticci OBS no si ci sta lì OBS perché è professionale è gratis trasmette in diretta quindi adesso lo sto utilizzando trasmette in diretta e posso fare tutto quello che voglio magari non è semplicissimo da utilizzare ma non è neanche difficile da usare poi vediamo cos'altro si dice volevo vedere sotto Sergio ok Roberto puoi registrare con una videocamera potrei registrare con una videocamera dice Roberto anche se in realtà da quello che ne so adesso che ne so ne so poco tra virgolette si posso registrare con una videocamera quelle di super qualità in molti in passato non so se lo facciano ancora adesso registravano anche con le macchine fotografiche reflex perché anche quelle fanno video e li fanno di buona qualità io non le ho mai usate perché devo registrare lo schermo del computer per cui non ha senso per me registrare con una fotocamera perché con una videocamera con una videocamera potrei registrare me ma io devo mostrare lo schermo del computer quindi il computer a questo punto può registrare direttamente anche me e quindi mi facilito di molto il lavoro ma quelli che fanno video e non mostrano lo schermo del computer si utilizzano videocamere macchine fotografiche reflex o quant'altro di super qualità perché il valore di una videocamera da 4000 euro per capirci non si vede più di tanto si vede lo stesso perché la luce non è buona la trasparenza fa fatica cioè quando lo guardo lo guardi tecnicamente ti dici la qualità potrebbe essere sempre migliore però insomma si può fare e dovendo registrare lo schermo del computer ho bisogno che sia il computer a registrare vediamo cos'altro si dice Oscar per fare video ci vuole una mirrorless sono le migliori ecco ci sta spiegando quale tipo di videocamera si usano allora Tiziano dice Skype funziona per le dirette no per trasmettere in diretta serve un software di streaming un software apposito che sia in grado di registrarti di trasmetterlo e di interfacciarsi con la piattaforma che deve ricevere la trasmissione nel mio caso in questo momento YouTube per cui e per questo utilizzo OBS in passato registravo con altri software e poi caricavo il video ora devo usare OBS per fare lo streaming perché è un programma fatto apposito appositamente per fare lo streaming e a quel punto dopo che l'ho imparato a usarlo lo utilizzo anche per registrare il video perché alla fine può fare tutto è più avanzato e quindi utilizzo quello per fare tutto per cui i video registrati o i video in diretta vengono fatti nel mio caso con OBS vediamo cosa dice Francesco ok grazie grazie di tutto allora Juventino io uso OBS mi trovo bene mi fa molto piacere da sapere ok poi nel caso specifico io debba insegnare matematica debba insegnare qualcosa abbia bisogno di una lavagna tipo questa utilizzo un software software adesso mi scappa il nome l'ho appena me l'ero appena memorizzato allora sto andando a cercarlo in modo da poterlo scrivere eccolo qua io ho trovato questo software diciamo gratuito non diciamo gratuito questo software tipo LIM lavagna lavagna multimediale che si chiama Point Point to Fix è un software tedesco che però vedete che è anche in lingua italiana e permette di fare un sacco di cose perché io sto utilizzando tranquillamente una lavagna quindi vediamo come mettere insieme queste cose sto guardando a sinistra perché sto rimettendo le mie schermate di supporto alla cosa io uso due schermi uno schermo lavora registra e un altro schermo mi fa da supporto specialmente durante durante le dirette ok e quindi ci siamo Arduino ok che mi sono perso poi vedrai la registrazione Arduino allora quindi esco da qua diciamo che abbiamo finito e vogliamo provare chiudo questo vogliamo provare a scaricare questo OBS e a usarlo che è la parte più difficile di tutto il lavoro io vado su internet quindi torno sul mio browser vado su google scrivo OBS studio eccolo qua perché è questo il nome del software OBS sta per Open Broadcaster Software premo lo scarico questo software è gratuito è libero gratuito sia per Windows che per Mac che per Linux lo scarico premendo in questa posizione ecco che il software arriva nel mio computer ora io non volevo spendere troppo tempo a scaricarlo ma vediamo se va tutto bene intanto tengo d'occhio la qualità della linea per vedere se ce la fa a fare tutto e sembra di sì ok quindi io scarico questo software e ormai aspettiamo un attimo anche se penso di averlo scaricato una volta scaricato finisce in download ci vado intanto vado in download perché avevo provato a scaricarlo anche nei giorni scorsi vediamo download eccolo no non è quello lì e niente dobbiamo aspettare che arrivi sta per arrivare questo software intanto leggo la chat vediamo cosa dice Milan Milan dice anch'io uso OBS per registrare qualche video di prova ecco perfetto mi fa molto piacere questo Oscar dice anch'io uso due schermi perché per giocare e registrare ho bisogno di vedere se la registrazione funziona esatto non che magari di fare dei cambiamenti o di gestire o di gestire le cose Arduino dice ciao Daniele ma Skype funziona per le dirette non metti il punto di domanda per cui non so se me lo stai chiedendo se me lo stai chiedendo io penso di no non uso Skype da un sacco di tempo e quindi secondo me no per quanto ne so io però potrei ovviamente sbagliarmi vediamo cosa dice Lupo Solitario Daniele spero che ritornerai a fare il corso riguardante la creazione del sito internet ok ci arriveremo Juventino dice preferisco ok Juventino periferico dice no Arduino conferma sul discorso di Skype non c'entra niente è un software per fare videoconferenze nel senso di parlarsi insieme ma non per fare le dirette ok allora questo OBS è scaricato eccolo qua è arrivato nel mio computer io posso rimpicciolire e ora lo devo installare clicco due volte in questa posizione questa schermata nera mi sta dicendo vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo sì consento e qui parte l'installazione dico avanti eccetera eccetera io adesso non posso andare avanti perché ce l'ho già nel mio computer questo OBS e sta già funzionando tra l'altro per cui è semplicemente clicco qui dico sempre di sì e alla fine arrivo che il software è stato installato ora dobbiamo impostarlo affinché registri il nostro schermo il nostro video vediamo come siamo quindi io adesso lo apro ne ho già aperto uno qui sul mio monitor di sinistra ne apro un altro che possiamo andare a guardare noi quindi apro OBS studio il mio computer eccezionalmente mi dice ma guarda che lo stai già usando sei sicuro? sì sono sicuro e adesso ci troviamo davanti OBS ora ve lo mostro ed eccoci ed eccoci qua questo è il software che io uso per registrare e quello che io uso in questo momento per trasmettere la diretta qui c'è scritto aspettate che mi metto un po' di fianco qui c'è scritto avvia la diretta oppure avvia la registrazione se devo fare una diretta avvio la diretta però devo fare aver fatto tutta una serie di impostazioni nel computer nel software affinché sia in grado di mandare la diretta su YouTube che non vediamo questa sera ma invece per registrare devo mettere solo semplicemente avvia la registrazione queste sono le scene sono le schermate che voi vedete solitamente quando inizio la diretta c'è questa scena c'è questa immagine quando poi inizio a parlare c'è la schermata di lavoro che mostra il mio texto quando voglio fare il finale c'è questa che mostra invece il finale quindi quando utilizziamo OBS prima di registrare predisponiamo delle scene per poter lavorare quindi se io devo registrare un tutorial questa schermata qui ho appena aperto OBS è vuota devo andare a sistemarla e adesso lo facciamo e lo facciamo abbastanza velocemente perché è piuttosto semplice vediamo cos'altro si dice in chat al momento allora quando l'ho scaricato OBS c'è una guida che ti saluta e ti invia e ti aiuta a fare tutti i passaggi infatti allora io voglio caricare una nuova scena voglio far finta di dover registrare un video mai fatto qui non c'è niente inizio vabbè dico più nuova scena la chiamo video tutorial video tutorial ok e questa scena è vuota non c'è niente qui dentro perché semplicemente la scena è vuota devo metterci le cose e devo metterci lo sfondo del mio computer voglio registrare lo schermo del mio computer per fare il tutorial quindi vado qui dove ci sono le fonti le fonti che devono essere registrate premo sul più scelgo tra tutte le possibilità scelgo cattura lo schermo devo catturare lo schermo del mio computer ok cattura lo schermo ok ed eccolo qua dico ok e questo è lo schermo del mio computer che viene registrato ora vediamo tutti questi OBS che vanno uno dentro l'altro perché è come se fossimo in uno specchio il computer vede se stesso che vede se stesso che vede se stesso eccetera solo perché ce l'abbiamo nello stesso schermo questo schermo può essere rimpicciolito posizionato eccetera ma ovviamente io voglio che venga registrato a tutto schermo grande tutto quindi io adesso posso già registrare lo schermo del mio computer se facessi avvia la registrazione lui registra lo schermo e io sono a posto quindi nel mio caso lo metto fuori su un altro sull'altro schermo dico avvia la registrazione e lui registra tutto quello che faccio e tutto quello che dico per il semplice fatto che ho messo dentro questo cattura schermo qui dentro poi dico spegni la registrazione sempre sullo stesso tasto e siamo a posto se desidero registrare me stesso devo mettere anche la mia immagine ora andiamo a metterla allora devo fare in questo modo devo dato che utilizzo dato che utilizzo una un'unica webcam un'unica telecamera devo fare in modo di riuscire vediamo se ci arrivo a far andare questa telecamera ok devo fare in modo che sia un solo OBS a farlo allora adesso scompaio dalla vostra vista allora devo spegnermi qua ok sono scomparso e mi metterò dentro qui quindi qui nelle fonti aggiungo la webcam quindi faccio più e scelgo dispositivo di cattura video che è la webcam dico dunque dico ok e disattiva il video eccolo qui dico ok ed eccomi qua quindi io sono dentro adesso al mio schermo insieme al computer sono un po' grande posso rimpicciolirmi ecco qua mi metto in questa posizione dove sono di solito sono in questa posizione qui però si vede quello che ho dalle parti pareti bianche di qua pareti bianche di qua e il telo verde dietro che io ho quindi questa è la visione la mia situazione attuale si vede troppo e quindi sarebbe già a posto così se io volessi registrare un tutorial ho messo il cattura schermo ho messo la webcam mi vedo ovviamente mi metto dietro uno sfondo piacevole una libreria una stanza ok registro il mio tutorial e sono a posto qui vedo l'audio e sono a posto sto già registrando devo fare avvia la registrazione quando è finita sempre lo stesso tasto spegni la registrazione e siamo a posto stiamo registrando adesso dato che vogliamo intanto sto cercando la chat perché voglio vedere i vostri messaggi quindi devo mettermi a posto il secondo schermo eccolo qua dato che voglio sistemare un po' meglio queste cose cioè non voglio vedere i bordi ok vediamolo questa cosa qui è piuttosto semplice tasto destro sulla telecamera allora trasforma e modifica e trasforma cioè cambio la forma della mia telecamera voglio tagliarla quindi ritaglia da sinistra allora proviamo a tagliare di 200 poco vedete che mi sto che si sta accorciando 290 ok ancora un po' di più perché c'è un po' di bordino qui 290 andiamo avanti ok lì si è rimpicciolito da destra mettiamo 200 poco 200 220 ok e no dico chiudi qua ok e quindi io adesso sono rimpicciolito e mi imposiziono mi posiziono qui e quindi quando viene registrata viene registrata questa parte qui dello schermo Oscar mi sta chiedendo scusami ma usi la videocamera del pc sì in questo caso io ho un computer fisso ho uno schermo HP con telecamera incorporata con videocamera incorporata e quindi fa direttamente lui se usassi una videocamera esterna vabbè ce l'avrei ce l'avrei comunque qua ciao Lince e grazie infinite per l'uso della super chat grazie mille Lince devo fare la trasparenza non voglio più il verde voglio essere trasparente tasto destro filtri aggiungo il filtro qua più la chiave la chiave cromatica chiave croma ok ed ecco che già si vede un po' la trasparenza devo perché prende automaticamente il verde devo aumentare un po' la funzionalità dico che chiudi e grosso modo sono in trasparente e adesso il verde dietro di me non si vede più e quindi quando c'è qualcosa che passa qui vicino a me si vede e per questo motivo usiamo la trasparenza o andrebbe fatta meglio dovrei guardare più da vicino ecco ad esempio qua si vede ancora un pezzetto del bordo da questa parte qua dove eccolo qui e anche un bordo di là ma adesso non ho voglia di personalizzare tutto abbiamo visto com'è ci si mette con pazienza e si fa ma non c'è bisogno di avere lo sfondo trasparente parlo ai miei allievi e lo faccio e lo faccio direttamente da come dire da una stanza dove sono però loro mi vedono e quindi riusciamo a fare tutto ok quindi questo è tutto quello che che bisogna fare per poter per poter registrare un video in definitiva ci sono altre impostazioni ancora ma direi che abbiamo visto quello che è la parte fondamentale allora faccio esci perché questo non ci interessa più allora però prima di tutto devo spegnere la telecamera di qua e riaccendere la telecamera sull'altro in modo che voi possiate vedermi quindi devo riapparire da qui ok ci sono qui esco e fatto la parte OBS è fatta adesso vediamo come avere il point to fix quel software che ci permette di fare la lavagna elettronica e quindi da poter utilizzare in questa posizione anche quello è gratis e anche quello lo prendo da internet per cui vado sul mio browser OBS lo posso chiudere casetta scrivo point to fix eccolo qua questo è il sito è in tedesco perché è un software tedesco clicco su point to fix arrivo in questa schermata e qui posso andare a scaricare il software posso prenderlo in due modi e di due tipi il software che va installato nel computer e il software che invece si usa senza installazione preferisco il secondo clicco viene scaricato all'interno del mio computer è leggerissimo ed è velocissima la cosa quindi è già arrivato quindi vado in esplora file vado in download a vedere dove è stato scaricato eccolo lì intanto qui cancello queste cose che non mi interessano è un file zippato abbiamo visto che i file zippati abbiamo visto in passato vanno decompressi quindi tasto destro estrai tutto estrai ed ecco il mio software point to fix eccolo qui clicco due volte e lui si apre start e adesso qui ho il foglio per scrivere le cose che mi avete visto fare prima quindi vado su un foglio però vado su un foglio ma qui è tutto in tedesco non mi va bene voglio tradurlo quindi chiudo tutto e lo voglio tradurre devo tornare sul sito internet eccolo qui qui sotto ci sono le lingue scarico le lingue arrivano eccole qua vado in download ci sono le lingue le ho prese qua translat le devo estrarre tasto destro estrai tutto estrai perfetto vediamo cosa dice Oscar a proposito di programmi preferisco prendere solo i portable qualsiasi programma per non riempire il disco esatto quando io ho scaricato c'era il programma con installazione o il programma diretto qui lo chiama alla tedesca sempre il programma quello che non si installa perché così non faccio confusione nel mio computer quel programma lì viene usato senza ramificarsi all'interno del mio computer e quindi è molto più semplice da usare da togliere quando quando voglio non sempre ci sono le due versioni a volte ce n'è una sola allora io ho scaricato le lingue questa qua la lingua che voglio prendere io è quella italiana qui ci sono tutte le lingue eccola qua l'italiano la copio e vado a incollarla qui dentro dove c'è il mio programma incolla tolgo lit dal nome lì a destra perché va fatto così ci sono le istruzioni che io ho letto e adesso sono pronto il mio point to fix è in italiano copio un collegamento sul desktop quindi collegamento invia a desktop ed eccolo fatto questa è la mia lavagna la avvio e adesso posso scrivere direttamente sul computer sullo sfondo del computer oppure posso prendermi un foglio a righe a quadretti ma griglia prendiamo una griglia no la griglia non mi piace il foglio a quadretti era quello che mi piaceva di più ed eccolo qua e qui posso disegnare anche le frecce dove sono le frecce frecce queste questa è doppia ma c'era anche quella singola eccola qua no quello è un segno di spunta posso disegnare rettangoli quadrati frecce questa scrivere fare tutto quello che voglio in definitiva poi posso salvare eccetera eccetera questa poi è una lim e magari se un insegnante l'ha già usata e sa un po' come fare vabbè questo era un po' tutto tutto l'insieme di quello che che si può fare per fare un video tutorial magari un po' velocemente però è tutto qui basta un computer decente quindi un computer che funzioni bene e dei software gratuiti e poi si può andare ci siamo siamo pronti va bene ragazzi vediamo cosa dice la chat allora buonasera Daniele scusa il ritardo eccomi pronto è possibile aggiungere una immagine di sfondo su quel software lì non lo so andiamo a vedere lo avviamo allora vogliamo un nuovo fondo schermo a linea schermo a griglia schermo bianco schermo a quadretti schermo originale schermo originale penso che sia questo sì non so se si può mettere un'immagine di sfondo e neanche inserire un'immagine però in realtà se io volessi un'immagine di sfondo farei semplicemente così andrei nel mio computer in immagini allora prendiamo un'immagine vabbè questa un'immagine l'apro la metto in sfondo eccetera eccola qua e poi attivo il mio software adesso non ce l'ho devo mettermelo sull'altro schermo per riuscire a farlo così ho il pulsante dall'altra parte per cui metto l'immagine di sfondo attivo il mio software però non me lo fa vediamo se ci riesco adesso no non ci riesco posso fare così ecco e no non ci riesco quindi non lo so dovrei lavorarci per vedere se riesco a mettere un'immagine di sfondo in questo momento non te lo so dire se si riesce non vedo l'opzione però vediamo cos'altro si dice Milan dice Daniele per ok quello è un altro discorso Tiziano si può anche stampare da quella lavagna assolutamente sì una volta fatto c'è la possibilità di stampare mi sembra in qualche momento sì qui c'è la stampa e si stampa la lavagna adesso ho la stampante spenta sono curioso eh questo è il rumore della mia stampante vado su stampa vediamo cosa viene fuori ah no ho sbagliato non mi fa impostare la stampante vediamo eh vado su stampa non posso ah perché non posso regolare impostazioni stampante HP ok stampa vediamo cosa viene fuori dalla stampante adesso eccolo che arriva ah Emiliano diceva no scusami su OBS eh sì 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 a posto della chiave cromatica si può fare assolutamente sì eccola qua la stampa mostra mostra lo schermo con quello che c'è scritto sopra assolutamente sì Emiliano su OBS si può fare di tutto io ad esempio in un video passato parliamo di tanto tempo fa mi ero messo all'interno di una televisione cioè ci puoi mettere la tua telecamera puoi metterti lo sfondo dietro tu si possono fare un sacco di cose assolutamente sì quindi una volta che si prende un po' di pratica OBS è fantastico perché è molto professionale quindi puoi fare e ottenere tanti effetti ringrazio Giovanna ciao Giovanna grazie infinite per l'uso della super chat grazie mille ciao Giovanna te lo dico adesso ma ho visto che c'eri già da prima allora Milan quanto costa una stampante laser basta guardare sul web non ne ho idea perché la mia ha tantissimo tantissimo tempo ma non costa tanto in ogni caso allora vediamo cosa Tiziano si può anche stampare questa lavagna se l'abbiamo visto Beniamino scusa Daniele dove trovo i link dei programmi che stai spiegando in realtà da nessuna parte li abbiamo cercati al volo qui allora uno è OBS studio OBS studio e lo trovi subito eccolo qua e l'altro è point to fix e lo trovi subito qua e quindi li trovi li trovi facilmente va bene ragazzi abbiamo un po' di tempo diamo un po' di spazio alle domande libere per cui se avete qualcosa da chiedere di qualsiasi argomento questa volta quindi fuori dal nostro dal nostro solito da quello che ci stiamo dicendo adesso chiedete pure così così ci ragioniamo intanto vi ricordo della nostra app As Maggiolina l'avete già scaricata in tanti su questa app potete trovare tutti i nostri video quindi il punto forte di questa app che potete installare sul vostro telefonino la trovate qui sul Google Play vi permette il bello di questa app oltre a vedere i video e quant'altro è che vi permette di cercarli voi mettete un argomento e lei tipo driver e lei trova tutti i video oltre nei 1200 video che abbiamo fatti trova tutti quelli che hanno a che fare con con quell'argomento ringrazio Icaro grazie infinite Icaro per l'uso della Super Chat che ripeto in questo momento è particolarmente importante per noi grazie allora vediamo cos'altro si dice in chat Oscar scusa la domanda quanto tempo ci metti a editare i video che fai per per i tutorial beh dipende da quanto dura il video in genere il tempo del video quindi se dura 20 minuti ci metti 20 minuti ma poi ce ne metti 25 o 30 perché guardalo taglialo eccetera ci vuole un po' di più non tantissimo di più perché ormai facendolo tutti i giorni prendi una certa pratica però un po' sì il mio è un editing leggero taglio le parti dove mi sono sbagliato a dire le cose che ho ripetuto eccetera ci sono video invece editati in maniera incredibile dai ragazzi che fanno gli youtuber e quindi sicuramente metteranno più tempo poi una volta editato ci sono c'è una c'è una tempistica di rendering cioè il computer deve fare il video ne ho parlato se ti capita direttamente qui allora vado sulla pagina degli abbonati cioè la pagina che permette di vedere i video riservati agli abbonati e abbiamo fatto un video speciale apposta vediamo se lo trovo adesso volevo evitare di farci venire il mal di mare girando tutto quanto qui avevo fatto un video dove editavo eccolo qua no ancora più sotto uno dei primi no non così tanto comunque c'è eccolo qua editare un video tutorial qui mostro esattamente come editare un video tutorial come edito i miei video e quanto tempo ci impiego lo si vede lì e ci impiego un po' dipende da quanto è lungo allora quante domande bene alcune mi stanno già scappando grazie intanto dei complimenti che fanno sempre sempre piacere vediamo cosa dice cosa dice Milan dice ma per Google account aziendale ci farai un video a parte vediamo non è così semplice da mostrare quella parte aziendale degli account ma può darsi Beniamino come si crea il gruppo home su Windows 10 non si crea non c'è più quella quella parte lì di di Windows 10 quindi della rete non so sinceramente come si mette in rete ormai un computer in Windows 10 non mi sono mai cimentato perché ormai tutti quanti passano ad utilizzare Google Drive e la rete sul web sono stato anche in vari uffici sempre per registrare video e cose varie e tutti sono organizzati con Google Drive per non star lì a cablare i vari computer a fare la rete wireless e tutte le serie di protezione e quant'altro poi c'è sempre qualcosa che non va quando metti in rete queste cose adesso che ci sono le nuvole appoggiarsi sulla nuvole e condividere i file diventa anche molto più facile tant'è che la rete si estende ovunque per cui io posso lavorare in telelavoro ad esempio che adesso va molto di moda allora vediamo cosa dice Gianni il corso Inkscape continuerà è molto interessante oh mi fa molto piacere grazie Gianni sì penso che diremo ancora qualcosa di Inkscape ci sarebbero un'infinità di cose da dirsi per quello vediamo cosa dice Sere su OBS non riesco a registrare la voce con il microfono del portatile dovrei vedere nello specifico questa cosa può darsi che quel microfono o abbia un volume basso o OBS non lo recepisca non lo so c'è il volume sotto da regolare so che hai visto il video quindi so che sai dove regolarlo quando guardi OBS allora lo facciamo apro OBS OBS Studio avvia comunque eccomi questi sono i microfoni qui c'è l'ingranaggio che ti permette andando in proprietà di scegliere il microfono io sul mio computer ho il microfono il Samsung Meteor Mic quello che vi dicevo prima e ho il microfono della mia webcam che è questo e posso scambiare un microfono con l'altro prova a andare lì per vedere se c'è qualcosa da cambiare oppure no diversamente non sono in grado di aiutarti se i volumi sono a posto dovrei vedere qui in Windows se i volumi sono a posto ma senza vedere non sono in grado di aiutarti vediamo cosa grazie a Infinite donato per l'uso della Super Chat grazie a Infinite e anche a Jacqueline grazie a Infinite e a Jacqueline per l'uso della Super Chat per noi è molto molto importante vediamo cos'altro si dice trasferire foto da computer alla nuvola numero di lezione dice Gaetano bene abbiamo parlato tante volte di quelle cose lì vediamo se ci viene in aiuto qualcuno con la app perché io non posso usarla adesso sul mio cellulare perché il cellulare sta trasmettendo la diretta e quindi non sono in grado però qualcuno sicuramente adesso arriva ma l'abbiamo fatto un sacco di volte le carichiamo su Google Photo quindi Google Photo cerca i video con Google Photo e sono quelli vediamo abbiamo detto qualcosa qui su Google Photo l'abbiamo detto tante volte ma non ho la possibilità di cercarlo qui vediamo cos'altro dice Oscar purtroppo io abito a Milano e passare un'ora senza ok mi fa molto piacere mi fa molto piacere Oscar infatti il senso è anche quello continuiamo a fare sempre queste cose anche se ci sono cose più importanti ma anche perché intanto si passa si passa del tempo pensando ad altro esatto allora grazie Michela dei complimenti Sergio mi dice il titolo Google Photo tutti i video un po' di video in cui abbiamo parlato di Google Photo Sergio che è il nostro cercatore sul telefono Elena va bene ok non adesso dice nei TG ci sono tanti collegamenti in Skype questa è una cosa di cui possiamo parlare alcuni si sentono bene altri si sentono malissimo dipende dalle linee telefoniche ok allora questo è un argomento Elena che voglio voglio approfondire intanto Sergio dice lezione 182 corso blu per quanto riguarda il Google Photo caricare le foto sulla nuvola allora dicevo in questo periodo di tutorial online eccetera ci sono anche le videoconferenze siamo obbligati diciamo a stare a casa vogliamo tenerci in contatto con gli amici vogliamo insomma lavorare da lontano si fanno le videoconferenze si fanno un sacco di videoconferenze quindi videochiamate c'è un mondo per le videochiamate c'è veramente un mondo provavo oggi anche un altro sistema bellissimo che vi dirò in uno dei prossimi video perché mi è piaciuto tanto intanto vi dico quello che usiamo di solito allora intanto questo lo chiudiamo Skype è probabilmente il sistema più conosciuto va bene va male quando le videoconferenze le videochiamate vanno bene o vanno male dipende se vanno male dalla linea telefonica e dal computer se non è in grado di reggere la chiamata cioè se fa fatica quindi un buon computer e una buona linea telefonica danno un buon risultato per le conferenze in particolare noi come associazione maggiolina utilizziamo Zoom che è questo è un software americano allora zoom.us perché è un software americano adesso ve lo mostro ci arriviamo eccolo qua sì è questo qua l'unico difetto per noi italiani per chi non sa bene l'inglese è che è in inglese e quindi si fa un po' fatica ma questo software è fantastico non ne faccio pubblicità lo usiamo lo conosco bene ed è veramente fantastico è gratuito a tu per tu quindi due persone insieme possono chiamare a tempo infinito se facciamo un gruppo se siamo su più persone abbiamo è gratuito per una quarantina di minuti dopodiché ha della linea bisogna fermarsi ma si può pagare pochi euro al mese una persona quindi l'insegnante paga qualche euro al mese si registra paga qualche euro al mese e poi può fare videoconferenze con classi da 40-50 persone anche dipende da quanto paghi ed è veramente bellissimo per cui mi sento di consigliarlo io ne sono venuto a conoscenza vedendo mio figlio che seguiva un corso d'inglese con l'America e l'insegnante americano aveva questo software ho voluto provarlo anch'io e noi come associazione Maggiolina e voi che partecipate alle conferenze lo utilizzate è semplice da usare c'è un attimo da capire qualcosina ma del resto c'è in tutti e funziona veramente bene per cui mi sento di consigliarlo perché non è molto conosciuto qua da noi ma è fantastico posso vedere il computer dall'altra parte posso pilotare il computer dell'altra persona per cui è veramente molto bello ok vediamo cos'altro si dice ne prendiamo qualcuno a caso perché i messaggi sono andati tanto avanti Ettore dice google photo video numero 4 anche quello sarà un po' più vecchio come video allora Milo dice Daniele una guida su come disinstallare Ubuntu completamente dall'hard disk in dual boot con Windows 10 allora il discorso di installare Linux su hard disk esterno se fatto bene è proprio quello che ti basta formatare l'hard disk esterno e sei a posto se non è fatto bene allora è un pasticcio ma il fatto di mettere Linux su hard disk esterno invece che sull'hard disk interno del nostro computer sta proprio nel formattare l'hard disk esterno e stop e quindi è tutto lì però bisogna vedere prima di farlo bisogna vedere come è stato fatto il lavoro e quindi dovrei vederlo non posso fare una guida generica perché le situazioni sono diverse da computer a computer ma lo scopo è proprio quello l'hard disk esterno lo tolgo sono a posto il mio computer primario con Windows 10 resta a posto senza nessun problema per questo motivo l'abbiamo messo all'esterno l'ubuntu vediamo cos'altro si dice Oscar ieri ho scaricato la nuova versione di Gimp assomiglia sempre di più a Photoshop devo scaricarla anch'io la nuova versione allora Sergio sta suggerendo i nuovi video vediamo cosa dice Gianni P la conferenza si fanno anche con Hangout di Google assolutamente sì mi è capitato di partecipare come allievo a una conferenza a più di una conferenza con Hangout e mi piaceva mi sono trovato bene come come allievo mi sono trovato bene e va benissimo quindi anche quello va molto bene devo dire che come insegnante mi piace Zoom perché dà tante possibilità da da questa parte però Hangout va benissimo così come anche Skype se dovessi fare una classifica Zoom Hangout e Skype al terzo posto in realtà un software che mi piace molto non credo che faccia conferenze non ci ho mai fatto caso l'ho guardato un attimo adesso è Google Duo che serve per fare videochiamate e ne parleremo presto perché ho provato oggi è veramente fantastico funziona con grande con grande grande facilità e quindi presto mi sentirete parlare anche di quel software lì proprio per fare videochiamate e vediamo se riusciamo a fare anche conferenze Oscar mi chiede Hangout e a pagamento è gratis? allora io l'ho usato gratuitamente non so se ci siano dei livelli che magari gratis puoi fare delle cose a pagamento ne puoi fare altre Zoom è così Skype è così Hangout non lo so io l'ho usato come allievo gratuitamente quindi non so dirti di più OBS porta via memoria al computer? beh qualsiasi software aperto nel computer consuma parte della memoria del computer specie quando stiamo registrando se tu registri qualcosa la registrazione assorbe tanto tante risorse chiaro se il computer ne ha tante quindi te ne lascia libere tante quando io usavo il computer di prima non potevo tenere aperto tante cose perché l'impegno della registrazione era grande per il computer adesso che è un computer molto più potente non se ne accorge neanche riesco potrei aprirne due di OBS e registrare due cose contemporaneamente in due video completamente diversi ed è veramente fantastica questa cosa allora vediamo cos'altro si dice ne provo a prendere un'altra domanda ancora che magari ho passato prima vediamo che prima passava molto velocemente quindi qualcuna mi è scappata Laura dice Laura che so che parli con l'account di Laura ma dovresti avere un nome da uomo se non mi sbaglio quando mi scrivi le email è possibile usare vabbè quello è un altro ah ecco è possibile usare l'ammoniaca per pulire le cartucce inchiostro Dario infatti ti firmi non lo so Dario le cartucce pulirle quando sono vuote pulirle quando la testina è sporca non lo so non uso stampanti a getto d'inchiostro da un sacco di tempo perché preferisco la laser per i miei usi e dipende dipende da dove è l'incrostazione secondo me perché se è in fondo negli ugelli diventa difficile ma so che qualcuno recentemente è riuscito a fare un buon lavoro però io non non so dirlo ecco vediamo un po' un altro Marco Daniele ho una stampante a getto d'inchiostro ho cambiato la cartuccia a colore ma mi lampeggia sempre la spia di vuoto puoi provare Marco a fare un paio di pulizie spegnerle accenderle due o tre volte dovrebbe dovrebbe mettersi a posto dopo un po' quindi oppure via software della tua stampante potrebbe esserci un qualcosa di azzera i contatori in quel caso la ricarica perché alcune stampanti non hanno una misurazione dell'inchiostro come come il serbatoio della macchina che c'è un galleggiante che si sente quanto ce n'è ma fanno una stima e quindi devi azzerarle via software perché partano perché partano dal zero va bene ragazzi direi che ci siamo 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 arrivati in fondo alla nostra diretta di questo di questo martedì sera ci vediamo adesso in diretta giovedì alle 16 con il corso di computer principianti stiamo parlando di internet vi aspetto domani sul canale con un nuovo video domani parleremo di Excel e venerdì ci sarà anche il video per gli abbonati quindi insomma rimaniamo in contatto perché tutti i giorni andiamo avanti con le nostre cose per cui ci sarà qualcosa da vedere vi aspetto in diretta giovedì e martedì grazie per essere stati qui con me a farmi compagnia ci vediamo presto ciao vi ho salutato ma non sono pronto col mio OBS per cambiare la schermata adesso ci sono andato quindi adesso cambio la schermata su OBS e viene quella dei saluti ciao 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 ciao